Dammi lo spazio e il tempo, perché è solo un frammento della tua versione che possa colpirti, seduti, avverti, incontrate d'azione, di causa, effetto, di un fascino perfetto L'attusione è semplice, la variante che non c'è, tu mi ascolti, poi ti offri le visitazioni, non ci sono alcuni tempi, mi ascolti, poi ti offrirai Dammi lo spazio e il tempo, perché è un argomento di conversazione con cui possa sfiorarti, lampirti, insidiarti, con alcido distacco appena un estratto, per catturarti L'attusione è semplice, la variante che non c'è, tu mi ascolti, poi ti offri L'attusione è semplice, la variante che non c'è, tu mi ascolti, poi ti offri L'attusione è semplice, la variante che non c'è, tu mi ascolti, poi ti offri L'attusione è semplice, tu mi ascolti, poi ti offrirai